E' entrato in vigore il nuovo prezzario dei lavori pubblici per la regione siciliana. L'assessorato regionale alle infrastrutture ha pubblicato sul sito istituzionale il documento e le relative tabelle riguardanti manodopere e materiali. Siamo la prima regione d'Italia, ha dichiarato l'assessore Marco Falcone, ad adeguarsi alle norme del decreto aiuti sugli interventi per fronteggiare i rincari eccezionali di materie prime e carburanti. Grazie al nuovo prezzario, le imprese al lavoro nelle commesse pubbliche in Sicilia avranno le dovute compensazioni sugli aumenti dei prezzi, che purtroppo incidono sulla remuneratività degli appalti. L'assessore regionale ha aggiunto, il Dipartimento regionale tecnico guidato da Salvo Lizio ha condotto come di consueto un'approfondita analisi di prezzi e listini sul mercato. Il nostro obiettivo è di tutelare l'intero sistema dei lavori pubblici in Sicilia, mettendo in sicurezza cantieri, imprese e posti di lavoro.